guarda! il dente che... allora, adesso vi dici che hanno... oh zitti! dai, pregala! quale hai? l'altro due, corso a teneo e accademia ti prego, ti prego! ti prego! non li vuole per mille euro? no! non li vuole per mille euro? no! cioè, in ginocchio perché ti vuole mille euro nel monopoli! guardalo, guardalo in ginocchio! non faccio, che devo fare! aspetta che mi giro il dato! per favore! aspetta, aspetta, aspetta! no, Eli, non dargli Eli! Eli, non ti conviene... non ti conviene dargli lealtate perché... non puoi parlare! ma stai zitto! non puoi parlare! ma vaffanculo! hai visto? siamo ricchissimi! sei della banca d'italia! quale? ma che pensa? ci guadagno più di 30! ma io sei una cogliona! ci guadagno più di 30! scusa, ci guadagno più di 30! che figato! oppure è fregato! oppure è fregato! sto fregato anch'io perché... se mi dai questo, ti do questo! ne ho sei di questi! sei ricca! guarda! e poi ci guadagno più di 30! e poi ci guadagno più di 30! e poi ci guadagno più di 30! ti guadagno più di 30! ti guadagno più di 30! tipo, fai schifo! oh, ti tocca! guarda questo mattone! sei... più... cinque... unico.... io non mi posso pagare! e ci guadagno più di 40! il oltre guarda secondo me perde davide ahahah vado faccio la faccio la faccio un po' finito stacco perchè se no 1 2 4 la faccia è il prigione? no ma sei spiegato ma è un problema che cosa? il coso, il coso davvero il coso? davvero il coso? ma lo so è qua ma sto ma sto struncio ma sei sfigato aiuto dammi il coso io posso vedere oggi